Il prossimo weekend a Pieve di Teco si svolgerà questo Expo della Valle Arrocia che è il primo Expo della provincia d'Imperia e vuole essere proprio un momento di vetrina per tutte quelle che sono le nostre attività produttive del territorio che riguardano i più vari settori a partire dalla enogastronomia fino all'industria e all'artigianato. Chiaramente è con orgoglio che la Valle Arrocia e Pieve di Teco ospitano questa manifestazione proprio in questo momento di difficoltà economica con la speranza di riuscire ad aiutare, voglio dire, dare un sostegno alle nostre imprese con questa vetrina per cercare di rilanciare un po' tutta l'economia del territorio e il territorio stesso che è un territorio particolare, bellissimo devo dire, molto ben conservato e che quindi con questa nuova iniziativa vuole proprio mettersi in gioco. L'Expo è anche una iniziativa che sarà periodica negli anni, quindi questa è la prima edizione, abbiamo investito molto su questa prima edizione con anche tutta una serie di manifestazioni collaterali che cominceranno da venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, il giro dei ristoranti della Valle, quindi anche i ristoratori si sono messi in gioco per dare un attimo di fare proprio promozione ai nostri prodotti con dei menu tipici, dei menu che dovranno essere prenotati da eventuali turisti per poter proprio mettere in risalto tutti quelli che sono i nostri prodotti. Chiaramente l'enogastronomia è uno dei settori importanti proprio del nostro territorio, quindi abbiamo puntato molto anche su questo discorso dei ristoranti e dei menu con i prodotti tipici. Queste iniziative ha Anci Liguria che vede come protagonista il nostro territorio per l'entroterra imperiese, la Camera di Commercio attraverso l'azienda speciale ha coadiuvato alla realizzazione di questa splendida iniziativa, ma non solo, anche le organizzazioni in categoria con commercio, col diretto e con partigianato attraverso il giro gusto, questo itinerario gastronomico con le tradizioni culinarie del nostro entroterra, le splendide ricette dei nostri nonni, se così possiamo dire. 60 espositori in Pieve di Teco, ma soprattutto anche la navetta che porterà i visitatori nelle vigne, a Ranzo, a Pornassio, a vedere il museo della Lavanda, piuttosto che luoghi storici. Insomma, vi è un mix di cultura, di gastronomia, di eccellenze del territorio, vi è un convegno a altissimo livello la domenica mattina. Io credo che sia un appuntamento molto interessante e molto importante per i visitatori italiani e stranieri. Dal 13 al 15 settembre ci sarà questa manifestazione bellissima che si svolgerà come primo expo della Valle d'Arroscia dal venerdì alla domenica con un programma molto intenso che permetterà di conoscere ai turisti e ai cittadini del nostro territorio e scoprire ancora di più le meraviglie di questa valle meravigliosa che comprende una alta e una bassa valle che si va quindi dalla scoperta dei vini meravigliosi, dai bianchi, dai rossi, dall'ormeasco, dal vermentino, dal pigato, da vini meravigliosi, all'olio splendido, al patrimonio artistico, dalla cucina bianca e da tutte quelle caratteristiche di questo territorio che va dalle montagne alle Alpi fino quasi al mare. Io mi auguro che sia un'occasione per scoprire ancora di più la Valle d'Arroscia, che sia un'occasione per far conoscere a tutti queste meraviglie e fare in modo anche che coloro che vivono in questo territorio si sentano amati e si sentano sopportati dalle istituzioni. La Camera di Commercio ha voluto partecipare in modo attivo a questa esibizione, a questo Expo e ci auguriamo che i risultati siano positivi. Queste tre giornate di settembre siano meravigliose e siano godibili da tutti.